Sì, grazie Presidente. Onorevoli colleghi, tenterò nel tempo che ho a disposizione di provare al di là della legittima retorica, dell'uso retorico che si vuole fare di questa occasione di discussione, di fare un ragionamento dove proverò a spiegare perché noi di Forza Italia siamo convintamente contrari all'approvazione di questo provvedimento. Infatti non ne condividiamo l'intero impianto, non ne condividiamo la tempistica, non ne condividiamo l'opportunità e infatti i nostri emendamenti, sia in Commissione Finanze che attività produttive, sono stati di nettissimo rifiuto rispetto alla logica che sottende a questo disegno di legge delega. Abbiamo depositato anche per l'Assemblea degli emendamenti soppressivi che qualora miracolosamente, perché purtroppo i numeri sono crudeli, fossero approvati, diciamo che smonterebbero in modo completo tutto il disegno, il criterio di questa legge delega, sul quale peraltro abbiamo deciso anche di presentare una pregiudiziale di costituzionalità al fine di evitarne il prosiego dell'esame. Allora, in questo disegno di legge delega si discute, è già stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto, del riordino, si fa per dire, delle concessioni demaniali marittime e dunque del futuro del comparto degli stabilimenti balneari italiani. E' un po' uno simoro parlare di riordino, perché si fa tutto fuorché riordinare una materia i cui confini sono ad oggi non chiari, non delimitati, e cui mancano elementi sostanziali per poterla appunto riordinare. Ci tornerò fra poco. Quello che, a monte delle considerazioni che sto facendo, mi sembra, è che né il governo né la maggioranza di questo Parlamento abbiano del tutto compreso il valore delle conseguenze dell'andare avanti con questo presunto riordino, ripeto, un ossimoro, e che sfugga a governo e maggioranza l'importanza di questo comparto per l'economia del nostro Paese. A meno che non si debba pensare male, si debba pensare che proprio perché non gli sfugge l'importanza di questo comparto, si voglia mettere le mani su queste concessioni e si voglia di fatto procedere a un esproprio proletario nei confronti di una 30.000 più o meno imprese balneari italiane che sono un fiore all'occhiello riconosciuto del comparto turistico del nostro Paese. Queste aziende balneari valgono circa il 10% del PIL turistico del nostro Paese, che a sua volta vale il 10% del PIL complessivo, quindi rappresentano una grossa fetta di economia del nostro Paese. E allora perché tutta questa fretta, tutta questa vaghezza, questo impeto nel giungere alla necessità di espropriare queste aziende? All'inizio dell'esame il Governo aveva dichiarato che il testo non era blindato e le associazioni di categoria avevano appunto ricordato che in Italia operano circa 30.000 imprese con un impatto occupazionale ed economico notevole e in continuo aumento, anche i dati di questa estate che si è appena conclusa ci confortano in questo senso. Voglio sottolineare che si tratta per lo più di imprese familiari, una realtà ormai che equivale a un panda nella nostra economia, le abbiamo sterminate tutte. Appena il 14% infatti del totale è composto da società di capitali. All'interno di queste imprese familiari ci sono imprese che per generazioni hanno svolto questo lavoro, che hanno investito grandemente in queste imprese balneari, in taluni casi che hanno ipotecato case e proprietà pur di poter continuare ad investire e garantire un ammodernamento costante e continuo di questi stabilimenti sui quali naturalmente pende la spada di Damocle delle concessioni. Si sono assunte un rischio d'impresa, lo hanno fatto in silenzio, ma sono riuscite a produrre un modello economico che è invidiato da tutte le parti, un sistema che funziona, che fa contenti i clienti, che fa contenti gli imprenditori, che fa contenti gli esegeti dell'ordine ambientale, perché garantisce anche la pulizia e l'ordine e la sicurezza degli arenili. Insomma, un modello che funziona e giustamente lo dobbiamo, o meglio questa maggioranza, questo governo, dice che lo dobbiamo distruggere, va fatto in un'altra maniera. Cui protest? Vedremo se lo capiremo e se quando lo capiremo non sarà troppo tardi. Diciamo che c'è una grande solerzia nel portare a casa questo provvedimento. Si dice, si è detto, che perché bisogna un'ottemperanza a una serie di dettami. Mi sembra, esprimo la mia opinione, mi riferisco naturalmente alla direttiva servizio, alla direttiva Bolkestein, che forse si stia dando un'interpretazione un po' troppo stringente e pertanto strumentale di questa direttiva servizi, ormai celeberrima purtroppo, che è stata persino criticata da colui che ne porta il nome, da Fritz Bolkestein. Lui stesso l'ha rivista, ne ha rivista, diciamo, la funzione e anche il senso. Però si può sbagliare, soltanto questa maggioranza pensa di non sbagliare mai. Il mio timore è che questa eccessiva solerzia, nell'applicazione così stringente della direttiva Bolkestein, distruggerà completamente questo comparto e anche i figli di un dio minore che vi si accompagnano, cioè quello che riguarda il settore lacuale e fluviale, del quale non parliamo mai abbastanza. A questo proposito voglio ricordare che la Commissione europea è intervenuta sulla questione delle concessioni di beni demaniali marittimi, la quali fluviali, con finalità turistico-ricreative, inviando all'Italia nel gennaio del 2009 una lettera di messa in mora, di fatto un'apertura di procedura di infrazione, in ragione del mancato adeguamento della legislazione nazionale all'articolo 12,2 della direttiva, appunto, Bolkestein. E poi un'ulteriore lettera di messa in mora a complementare il 5 maggio dell'anno successivo, il 2010, alle quali l'Italia ha risposto con una legge comunitaria, sempre nello stesso anno, delegando il Governo ad emanare entro il 17 aprile del 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa al settore, chiudendo con ciò la procedura di infrazione in data 27 febbraio 2012. A tale delega, però, i governi che si sono succeduti dopo la caduta del Governo Berlusconi nel 2011 non hanno dato seguito. È vero che nel vuoto normativo che si è venuto a creare è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia europea, 14 luglio 2016, è stato già ricordato, che ha disposto quanto segue, leggo, la direttiva 2623 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, all'articolo 12 dispone che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione. E qui entriamo nel tema delle aste. Ora, se è vero, perché bisogna dirsele le cose, che la sentenza suscitata rischia di provocare una nuova procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, è anche vero che al momento non risulta neppure una procedura pilot che la Commissione usa a porre in atto proprio per prevenire l'apertura di un'infrazione. Insomma, qui torno al cui prodest. Non si capisce allora la fretta di chiudere un provvedimento messo insieme in modo confuso, ma chiamato riordino, senza ragionare sul fatto che il nostro Paese possiede solo di litorali marittimi 8.000 km di coste e che ha le capacità tecniche di realizzare stabilimenti balneari ecocompatibili e non impattanti anche in luoghi diversi da quelli che sono già soggetti a concessione. Quindi manca il presupposto fondante su cui si basa l'esecuzione di questa direttiva, e cioè la scarsità delle risorse naturali a cui si riferisce la Corte di Giustizia Europea. Fa proprio riferimento a quello. Allora, c'è scarsità di risorse naturali o non c'è? No, non c'è. Non c'è. Ma andiamo avanti. Le associazioni di categorie italiane hanno più volte sottolineato il fatto che nel nostro Paese non c'è scarsità di materia prima, vale a dire di spiagge, perché è ancora disponibile il 48% delle nostre coste. Lo stesso vale per la tutela del legittimo affidamento, dietro al quale c'è un patto di reciproca fiducia fra lo Stato e gli imprenditori, che non può essere rotto. Ma i patti che fa lo Stato si rompono con grande facilità quando fa comodo. Cerchiamo di contestualizzare quello che sta avvenendo in Italia con quello che è avvenuto in Paesi interessati anch'essi dalla direttiva Bolkestein per quello che riguarda le concessioni dei maniali marittime, la Quali, eccetera. E pensiamo un attimo alla Spagna. Ricordiamo la Spagna perché quando esiste la volontà politica di difendere gli interessi nazionali di un Paese ci si riesce anche nell'ambito dell'Unione Europea. Ma ci vuole la volontà politica. La Spagna nel 2013 approva la revisione della Lei de Costas dell'88, prevede una proroga da 30 a 75 anni delle concessioni in essere, in base alla loro tipologia, senza procedure d'asta di evidenza pubblica, proprio grazie all'invocazione del diritto di godere della proprietà dei propri beni, di cui all'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Quindi ci sono tante incongruità, fretta, eccessiva solerzia, tante incongruità e un tessuto legislativo intorno a questa applicazione della direttiva Bolkestein senza dubbio complesso, naturalmente. Altrimenti non saremmo andati dal 2006, non saremmo arrivati sino ad oggi con una sostanziale mancanza di chiarezza. Non è materia facile questa da sbrogliare, per carità. Quello che ci interessa è capire la volontà che sottende a come si vuole intervenire ed è una volontà che non ci convince, che non riusciamo a capire e che abbiamo cercato di capire. Per non rischiare di decidere in maniera superficiale, prima di esprimerci, noi di Forza Italia abbiamo studiato con grande approfondimento la realtà balneare in tutta la sua complessità per capire come un settore così ben funzionante, strategico per l'Italia, veramente un modello di imprenditoria nazionale, proprio dell'impresa italiana che funziona, possa venire valorizzato attraverso una riforma strutturata che tenga in considerazione però le peculiarità italiane. Non siamo uguali agli altri Paesi, abbiamo la nostra peculiarità, per esempio 8 mila chilometri di coste, che sono i nostri confini nazionali nel mezzo del Mediterraneo. Molti rappresentanti del settore, li abbiamo ascoltati, li abbiamo ascoltati con attenzione in questi mesi, chiedono alle Commissioni di effettuare una verifica comparativa dei quadri normativi che si sono venuti a delineare nei vari Paesi comunitari, ponendo particolare attenzione proprio alla vicenda spagnola e alle proroghe volute dalla Spagna. Analizzare casi di successo e avere un quadro esaustivo delle discipline relative alle concessioni demaniali marittime è fondamentale per un'azione politica che vuole muoversi, o così dice, almeno in linea, con l'idea di una concreta difesa degli interessi economici e produttivi rilevanti del Paese che si rappresenta e che si è chiamati a rappresentare. Per questo noi avevamo chiesto nelle commissioni competenti nei mesi scorsi nuove audizioni, un approfondimento ulteriore di questo disegno di legge di delega di riforma del demanio malittimo, che però sono state rifiutate. Ci siamo dovuti accontentare di sentirci dire che è l'Europa che ce lo chiede, che non è proprio esatto perché appunto gli accadimenti della Spagna e anche del Portogallo, seppure differenti rispetto alla Spagna, dimostrano che c'è la possibilità di esercitare proroghe alle concessioni in scadenza, addirittura, ho ricordato prima, in Spagna fino a 75 anni, e che questo è stato possibile principalmente attraverso una revisione del demanio marittimo. In quei Paesi permane una concreta tutela per gli attuali titolari di concessioni balneari, mentre in Italia questo disegno di legge delega e altri provvedimenti normativi sembrano al contrario la dimostrazione di quanto questo Governo proprio non comprenda questo comparto, non ne comprenda il funzionamento, non ne comprenda il potenziale e non ne comprenda l'interesse nazionale. Con questo disegno di legge si rischia di consegnare al mercato, lo sentivamo prima, la libera concorrenza al mercato, che vale sempre per le aziende piccole, per le aziende familiari. In questo Paese la libera concorrenza si impone alle piccole aziende, che campano marito, moglie e due figli, ma ai grandi gruppi di potere lì la libera concorrenza non c'è mai. Lì il mercato non entra dominante a fare le leggi, no, là si fanno concessioni a vita, per esempio le autostrade, ma alle imprese familiari che gestiscono una piccola azienda che fa felici tutti, no, lì ci vuole la libera concorrenza e ci vuole la legge del mercato. Non è disarmante? Io lo trovo disarmante. Rischiamo così di consegnare al mercato dei grandi interessi economici nazionali e anche internazionali le concessioni di maniale italiane, dove appunto, lo ricordo, troviamo i nostri confini, i confini del nostro Paese. Tra l'altro secondo un principio che non è di reciprocità, perché gli spagnoli, per esempio, potranno venire a partecipare alle aste per le nostre concessioni balneari, ma gli imprenditori italiani non potranno fare la stessa cosa in Spagna. E il principio di reciprocità non è un principio fondante? All'interno di qualunque elemento di costruzione dell'architettura europea? Dov'è la reciprocità? Non c'è. Però sembra che sia un dettaglio questo. Durante i lavori nelle Commissioni ci siamo resi conto di come sia evidente che la maggioranza sta procedendo a riordinare, si fa per dire, il settore delle concessioni dei maniali, approvando una legge delega ampia, complessa, con tempistiche misteriose, senza conoscere l'attuale assetto delle competenze recato dalle normative regionali, né quale siano le concessioni dei maniali attualmente in essere. Ce l'ha detto il demanio. Non sappiamo quante concessioni abbiamo. Non sappiamo quanto valgono. Non sappiamo quanti contenziosi ci sono aperti. Per quanto denaro. Non sappiamo niente, ma noi riordiniamo su questo non sapere niente. Parlare del riordino delle concessioni in queste condizioni rappresenta proprio uno simolo. Lo ripeto e lo ripeterò fino alla fine. Infatti, come risulta dai lavori di indagine conoscitiva parlamentare, non sappiamo niente di queste concessioni. O meglio, non sappiamo abbastanza. E peraltro, nell'ambito di applicazione di provvedimento, non è ricompreso tutto il territorio nazionale, perché ci sono regioni che hanno delle deroghe. Quindi, tra l'altro, è un lavoro neanche coerente, neanche completo. A mio avviso, la delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa sulle concessioni dei maniali marittime, la quale i fluviali, è un mero ossequio alla cosiddetta direttiva Bolkenstein, che, insisto, sembra valere per le coste italiane grazie al nostro Governo, ma non sembra valere per altre zone costiere dell'Unione Europea, dove si sono applicati criteri ben diversi. Le persone che sono oggi titolari delle concessioni sono persone che hanno prodotto un tessuto sociale ed economico che ha generato ricchezza e benessere, contribuito al decoro, all'ordine, alla pulizia, alla tutela degli interessi pubblici connessi alla tutela dei luoghi, alla loro valorizzazione. Un grandissimo patrimonio per il nostro Paese. Mi chiedo perché si voglia colpire in tutti i modi un settore che funziona bene. Io credo che non si otterrà altro che mettere in ginocchio quel settore, violando, appunto, come ho accennato poco fa, due principi contenuti nella direttiva Bolkenstein, il principio di reciprocità e la condizione, appunto, di scarse risorse. Il provvedimento poi lascia, è un altro elemento che voglio sottolineare, la fissazione di un eventuale numero massimo di concessioni che un operatore economico possa detenere nell'ambito territoriale di riferimento alla discrezionalità delle regioni e si domanda a quali interessi rispondano a simile disposizione. Cioè, un imprecisato numero di concessioni possono essere accorpate presso un unico operatore economico. Non si sa quante, si deciderà, lo decideranno le regioni. A che serve? Qual è lo scopo? Perché? Ci sarebbe piaciuto poterlo sentire con grande chiarezza. Anche in questo caso, in ipotesi, si dispone, senza avere certezza, dei dati esistenti e si può arrivare al risultato che in alcune regioni possa essere determinato in un certo modo, in altre no, numeri, criteri. Ma è questo il riordino, tutto in maniera disunita, tutt'altro che ordinata. Io rivolgo un ultimo invito, ed è accorato, a cercare di mettere da parte la fretta su una materia così delicata ed evitare ulteriori pasticci. C'è l'opportunità di farlo. Ricordo che si sta deliberando sulla possibilità di mandare all'asta zone che rappresentano i nostri confini nazionali. E ciò in un momento storico estremamente delicato, con sfide che il nostro Paese è chiamato a fronteggiare ben oltre le proprie forze. Concludo riaffermando che Forza Italia è contraria a questo disegno di legge delega, perché ritiene che questa materia non debba essere sottratta ad un legittimo, opportuno, necessario, ampio, approfondito dibattito parlamentare. Il fatto che questa maggioranza voglia evitare su questo provvedimento un ampio dibattito parlamentare non ci lascia tranquilli, tutt'altro. Ci trova fermamente contrari. Io credo che da un ampio dibattito parlamentare sarebbero potute emergere soluzioni e visioni utili a migliorare il senso e la costruzione di questo provvedimento. Ma così non è stato. Le implicazioni sociali ed economiche sottese all'esito di questo provvedimento sono importanti e dobbiamo tenerne conto se vogliamo essere seri. Uso un aggettivo che è stato usato da un collega che mi ha preceduto poco fa. Pensiamo che l'apprevazione di questo provvedimento avrebbe un risultato certo, uno lo avrebbe senz'altro. Mettere in ginocchio migliaia di piccole e medie aziende italiane. Non vi sono giustificazioni per chi porterà all'estinzione un comparto che costituisce una peculiarità nazionale di successo. Riteniamo che un provvedimento di legge come quello presentato dal Governo porti con sé una conseguenza estremamente pericolosa. La morte di migliaia di aziende. Cosa che Forza Italia non permetterà in alcun caso. Grazie.